Ti piace il coltello? Ti piace? Che cosa? Che cosa è? Non sono concentrato No, non ti prego Ok, allora se tu puoi prendere Il drone è atturato Uso un drone Calma, te la caverai Un drone partito 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 Carica pronta cambio caricatore nuovo caricatore tornate a occupare il contenitore lasciate perdere il contenitore attività nemica neutralizzate la minaccia